Sì, eccoci qua, Aurora è tutto pronto, è il grande giorno dei play-off, semifinale di andata tra Nocerina e Latina al San Francesco è previsto il tutto esaurito, dunque spalti, gremiti in ogni ordine di posto con circa 600 sostenitori che giungeranno dalla terra pontina, dunque Latina che ci crede fermamente, due squadre che per certi versi sono state protagoniste del campionato fino a un certo punto, con Latina che è stato in vetta alla classifica per poi lasciare lo scetro all'Avellino, la Nocerina invece che ha cercato di rientrare in gioco per il primo posto valido direttamente per la Serie B ma poi ha dovuto chinare il capo rispetto a Perugia e Avellino che le sono infatti passate avanti con il passare delle giornate, scusami il bisticcio di parole. Un clima comunque di grande concentrazione quello che vivono le due squadre, la Nocerina che dovrebbe ripresentare dopo tante settimane di assenza in avanti, titolare dal primo minuto Michael Negro vicino a Felice Evacuo e a Fabio Mazzeo, tridente delle meraviglie, nessuno in categoria può permettersi di schierare giocatori di questo calibro che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Ma il Latina è una squadra compatta, difficile da affrontare, in campionato la Nocerina non è riuscita a superarla, 1-0 la vittoria in esterna proprio al San Francesco con gol di Agodirin in campionato, 1-1 invece a Latina in ritorno. Ricordiamo che per il regolamento la Nocerina deve vincere obbligatoriamente una delle due partite, non perdere l'altra per superare il Latina che si è posizionato proprio all'ultima giornata meglio in classifica rispetto ai Molossi, terzo posto contro quarto. La Nocerina dunque non è avvantaggiata dal regolamento, deve assolutamente cercare nei due confronti di superare in almeno una delle due partite la formazione nera-azzura di Sanderra che ha preso il posto di Pecchia che è stato esonerato proprio prima di finire la regular season. Noi ci risentiamo ovviamente in serata per i risvolti di questa prima partita semifinale di andata playoff Nocerina-Latina e poi ovviamente alle 9 di sera ci sarà una speciale puntata di A Tutto Calcio con tutto quanto è successo nella sfida di andata tra Nocerina e Latina.